14 anni e un curriculum da fare invidia ai più grandi giocatori di tennis. Dopo sette titoli italiani conquistati a livello giovanile, la campionessa napoletana Federica Sacco si è aggiudicata ieri anche la competizione europea Europe Junior Masters e questa mattina in sala giunta è stata premiata dal sindaco De Magistris e dall'assessore allo sport Ciro Borriello. L'emozione è bellissima non solo aver vinto il torneo, quindi il Master, uno dei tornei credo più importanti che abbia vinto, però oggi anche il riconoscimento al comune di Napoli, quindi sì, super felice. Mai alcun tennista napoletano in passato ha vinto tanto all'età di 14 anni. Federica Sacco è anche l'unica ad aver conquistato consecutivamente quattro titoli italiani a partire dal 2013. La vittoria in Europa è solo l'ultimo successo della giovane campionessa del tennis club Fireball di Napoli, allenata dal coach Lino Sorrentino. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto anche il comitato campano della Federazione Italiana Tennis, presieduto da Federico Datri. Siamo orgogliosi di questa ragazza, l'abbiamo già premiata negli anni scorsi, perché lei ha vinto a 11, 12, 13 anni, insomma ha vinto sempre, e probabilmente, ma oggi abbiamo una certezza, lei è il nostro futuro, è il futuro del tennis napoletano, ma credo che sia il futuro del tennis italiano. Grazie a tutti.